Da giù, eccolo! Attozzo! Arratevi in basso! Là! Dai, dai, non abbiamo uno! Chiudete i cancelli! Fermate l'intruso! Diavolo! Eccolo! Là giù! Presto! Lo stiamo raffendo! Là! Prendiamolo! Sono qui con te, fratello! Non tenete, lo prenderemo! Scendi di qui, subito! Non lo vedo più! Ora! Laggiù! Là! Ehi, state indietro! Non lasciatelo scappare! Non devo averlo già! oriented lasco! È anche il resto del mondo! Non ce ne sono mai montaggio! Vi farò mia! Non mi fosse una ma안! Non mi è fatta! Ehi, per capire! Toca! Non mi è fatta! Non mi è fatta! Sì. Sì. Che abbigliamento bizzarro. Ma... Lá! Benvio, sei morto! Che ci fai qui? Eccolo! Sì. Ora! Lo vedo! Lá! Sì. Lá! La goule mi okè è... Lá, la gule di che c'è una c nikola! Se rai questo, meno. È adesso. Va bene, però... Alla prossima! Porco cane, sono stato derubato! Guardie! Guardie! diavolo è mai possibile mai un giorno di quiete mai vi prego lasciatemi in pace diavolo è mai possibile ma io ho un altro condottiero diavolo mi sa ricordi non ti amo non sono affari credo in uno dei un patrem onnipotente fattorem cieli e terre visibilium omnium et invisibilium et in unum dominum iesum cristum figlium dei unigenitum et ex patre natum ante omnia secola deum de deo lumen de lumine deum verum de deo vero genitum non factum consubstanzialem patri perquem omnia pacta sum di aver superato tutto questo e invece no ho atteso troppo a lungo perso troppe cose per cui è scasi in pace bastardo non credo proprio come puoi resistere capisco grazie di avermi portato la mela ora dammela vai a farti fottere sempre combattivo come tuo padre beh gioisci pure ragazzo perché lo rivedrai molto presto tu la darai a me come vuoi affascinante un potere immenso ma se credi che ti possa salvare sei un illuso ti farò a pezzi a Grazie a tutti.